...con un'equipa di 6 persone, per realizzare il concerto sono 4 persone per 4 mesi di l'anno. La riproduzione di Piazza dei Miracoli impegnò invece un'equipa composta da 4 persone per 6 mesi. Non parlare dell'uomo di Milano, che richiese oltre 6.000 minuti di l'anno. La riproduzione di Piazza dei Miracoli, che si fa? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti